Ciao ragazzi e benvenuti sul mio nuovo canale, io sono Makotov di asiamovielife.com, se siete qui sicuramente sarete appassionati come me di cinema asiatico. Se vorrete iscrivervi soprattutto troverete nel tempo le mie recensioni, le mie review dei film più interessanti che hanno fatto magari la storia del cinema asiatico, in particolare di Hong Kong, Corea, Giappone, cinema action e di Kung Fu, per cui sono diciamo più un appassionato, però sono fondamentalmente onnivoro quindi parlerò un po' di tutto. Non ci saranno nomi incomplicati da ricordarsi, vi dirò direttamente quelli un po' più facili e importanti. Mi raccomando iscrivetevi, commentate i video sotto nell'apposita tezione, dandovi magari anche dei consigli, i vostri pareri, in modo che io possa aumentare la qualità dei miei contenuti. E allora ci rivediamo, presto! Grazie!